Quando eri in Google parte del tuo stipendio era in stocks, quanta influenza avevano sul tuo umore e le fluttuazioni delle azioni? Non molto perché io comunque ero in autosale, diciamo che non appena vestivano le vendevo, non le ho mai tenute, in retrospettivo ho fatto male perché le azioni in Google sono andate sempre su, però in realtà è molto più sensato dar via le azioni dell'azienda dove lavori perché per diversificare, piuttosto vendile e comprati tutto un indice che traccia lo stesso settore se vuoi. Quindi aveva senso vendere azioni di Google e comprare Nasdaq, perché? Perché se Google andava male perdevi sia il lavoro che i soldi, quindi non vuoi diversificare. Quindi io autodiversificavo ogni volta il vesting e poi reinvestivo ai suoi tempi S&P 500, oggi direi World. Però l'impatto sull'emotività, posso dire che era solo bello perché nel mio periodo in cui sono in Google le azioni sono passate da, dovrei fare i conti aggregando le A e le C assieme e evitando lo share split di 20 a 1, però hanno fatto un 5x nel mio periodo in Google, per cui i primi grant erano diventati ricchissimi. Quando ricevevo il vesting dei grant vecchi era una goduria. Quindi in teoria ero moderatamente contento che Google andava su a una certa pendenza, non come altre fan che hanno fatto il botto in su e anche in giù. Google era abbastanza steady, cioè andava su al suo 15-20%, ha fatto bei guadagni nel 17-19. E quindi avevano, forse se non ho vissuto grandi traumi, immagino dipendenti meta quando le azioni sono crollate tantissimo. E quindi diventa anche difficile, diventa un circolo vizioso, un brutto feedback loop positivo, positivo nel senso che si autoreinforza, che è bello, quindi non è un feedback bello, del tipo io entro in un'azienda, mi danno un pacchetto azionario, fisicamente il pacchetto, e poi l'azienda perde il 50% del valore. Metair ha perso qualcosa come molto di più del 50%, se non sbaglio. E quindi tu ti trovi che hai una compensation in stocks che è già dimezzata. Quindi dici, aspetto che queste azioni vestano, però sei incentivata a cambiare azienda, il che rende l'azienda ancora più stressata, per cui non lo so, è un meccanismo un po' perverso. Non mi è mai successo però, però ho amici che hanno vissuto delle rampe di lancio enormi e dei crolli enormi. Ho Marco Fogo, che voi conoscete, che è stato qui con me, che si è visto la crescita in Nvidia, e lui aveva ormai lo stipendio che era irrilevante rispetto alle azioni Nvidia che aveva. E ho avuto amici in meta che si sono visti, mi hanno dato il refresh, il grant, ma l'azione ha perso il set, non so quanto ha perso meta, meta stock, poi adesso si è ripresa, ha fatto il 400%, quindi anche lì, anche lì se vediamo 5 anni, 5 anni sì, era arrivata a 400 e da 400 era scesa a, sotto c'è a 80, a 90. Cioè quindi chi è entrato qui in meta e ha ricevuto pacchetti azionari, compensation attesa di 100k nei prossimi 3 anni, e questa da 400 è scesa a 80 e quindi ti trovi il tuo pacchetto che fa schifo. Invece chi è stato assunto qua al bottom, purtroppo non assumeva un grant che è meta, stava licenziando, ma se uno fosse stato assunto o ricevuto un grant di refresh a 90 e adesso vale 400, diventa anche difficile andartene, no? Non te ne vai, perché mai ti hanno dato 100.000 dollari in stocks che ora valgono 400.000 e non te ne vai, aspetti che vestono. Le compensation, le stock compensation creano dei strani meccanismi di feedback positivo. Quando scende sei tentato anche tu a andartene via dall'azienda per o rinegoziare il pacchetto azionario e quando salgono sei loccato. Però ripeto, in Google non ho mai avuto grande stress perché l'azienda Google andava su relativamente tranquillo. Vediamo Google e vediamo 5 anni, io contai sono andato via, sono andato via qui. E sono entrato, eh madonna, che succede? Cos'è? Perché? Ah, è stato lo split, vero, 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 è stato lo split in due. Cerco Google che sono un po' più vecchie. Le Google esistono da più tempo, sì, esatto. Io sono entrato nel 2012, a novembre, il pacchetto azionario iniziale, che valeva adesso, in teoria valevano di più, ma erano divise da 16, diciamo qui da 16, fino al 2020 che sono andato via che valevano 5 volte tanto, 4 volte e mezzo tanto. Piacevo, piacevo. Quindi però è una crescita costante e continua, quindi non ho provato dolore. Non ti penti almeno un po' di aver venduto le due GSU, autosale, vista le performance di Gog? Beh, comunque il mio piano quando facevo autosale, i soldi finivano da Morgan Stanley, che era il broker interno, in Google usavamo Charles Schwab e Morgan Stanley, dove ricevevamo le RSU. Autosale, i soldi finivano a Interactive Brokers e sui billy li investivo subito su S&P 500, quindi comunque è salito, cioè non è che, ovvio che se le vendi e i soldi metti sotto al cuscino perché fai i timing del mercato, no, se le vendi e poi le reinvesti in un portfolio più intelligente, sì. Anche perché la domanda è, se Google quei soldi me li avessi dati in cash, ci avrei comprato quelle azioni o mi sarei tenuto il cash e fatto altro e investiti diversamente? Se la domanda era, io nella mia asset allocation, nel mio investor policy statement, ho già scritto che voglio avere X% di Gog, allora sì, allora mi tengo le Gog. Ma se nel mio investor policy statement, nel mio asset allocation, ho scritto che non voglio il 20% di Gog, perché devo avercene se uno me le regala? È una questione di bias del punto d'ingresso, come anche quando ne parlavo nel video di Surrey che vendere in positivo, lì la gente non ha capito quello che dicevo. La seconda domanda è, ah, ok, quindi tu ti vuoi tenere le tue Gog, le tue stock che ti dà l'azienda e, ma guarda caso, Google te ne dà esattamente la quantità che volevi tu, ma guarda un po', né di più né di meno, se no, se ne vuoi di più, perché ogni mese non ti compri anche altre Gog con i soldi che hai, con i risparmi che hai? Cioè, sono esattamente, esattamente quelle che ti dà l'azienda, che coincidenza? Ti dà proprio esattamente quelle che ti saresti comprato da solo. Ma hai col vesting trimestrale, ma guarda che coincidenza. Cos'è GSU AutoSale? Vedo che ci sono un po' di bias status quo, è vero. GSU AutoSale significa semplicemente, è un meccanismo, c'è in Google, ma c'è qualunque azienda seria che dà una compensation basata su stocks, cioè che come parte del tuo total compensation, cioè quindi parte del tuo, chiamavano stipendio, vogliamo parlare agli italiani, parte della tua compensazione totale è tramite azioni dell'azienda, ok? Si chiamano spesso RSU, che sta per Restricted Stock Unit, GSU era Google Stock Unit, in Google tutto comincia con la G, e quindi erano azioni di Google. E fare AutoSale significa che Google ti dà un pacchetto azionario con dei vesting schedule, come cavolo? Sto cercando di deinglesizzarmi, ma non si può, cioè come vesting schedule, come lo traduco? Google ti dà 100 azioni che vestono, che ogni tre mesi un po' diventano veramente tue, così te le fa vedere e tu non cambi azienda perché hai ancora delle azioni che devono diventare tue. Ogni tanto un po' di prestazioni diventano tue e ci fai quello che vuoi. AutoSale significa che al momento in cui diventano tue le vendi subito e c'è il tipo di soldi. Questo significa.